Ne discutono adesso, diciamo, tre relatori, il primo che credo abbia una presentazione da far vedere, o forse no, io me l'avevano mandata, immaginavo, mi era stata preannunciata, comunque veda lei, Francesco Avvisati dell'OECD, Ocse, grazie. Sì, dunque, io avevo in effetti preparato una presentazione che però ricapitolava molti di questi dati come dati di contesto e, se si vuole trasferire là così, siamo per, la resilienza dei relatori, si devono arrangiare da soli, no, 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 io ce l'ho. Dunque, buongiorno e grazie dell'invito agli organizzatori e grazie per l'onore fatto anche all'Ocse di organizzare questo convegno, partendo dalle nostre raccomandazioni, dal nostro studio. Appunto, rapidamente, volevo intanto dire che lo studio è disponibile online per chiunque volesse leggerlo in originale, si trova sul sito dell'Ocse, semplicemente sicuramente con Google arriverete alla buona destinazione, che è uno studio appunto basato su una ricognizione effettuata esattamente un anno fa, a novembre, in alcune scuole italiane in numero limitato e soprattutto attraverso colloqui con i responsabili, con i decisori politici al Ministero e nelle scuole presso Indire e presso gli uffici scolastici regionali, insieme con esperti internazionali Sarah Hennessy e Robert Cosma e con Stéphane Vincent Lancran dell'Ocse. Prima è stato ricordato come nel confronto internazionale la tecnologia sia ancora poco presente nelle scuole italiane e questo sicuramente è necessario tenere a mente nel comprendere da dove vengono anche alcune raccomandazioni. Non avremmo sicuramente formulato lo stesso tipo di raccomandazioni per paesi come la Danimarca, la Spagna, la Norvegia, che hanno una forte presenza di tecnologia e dove si tratta anche di fare un bilancio di questo, dell'uso che ne viene fatto nelle scuole rispetto a un paese come l'Italia che si trova comunque ancora in coda per la disponibilità di risorse tecnologiche. D'altra parte appunto è stato ricordato come l'innovazione, qui non si parla solo di innovazione tecnologica, come è stato anche detto prima rispetto all'intervento dell'Università di Firenze, deve fare i conti con ostacoli strutturali nella scuola italiana che sono spesso anche legati al mancato ricambio della forza docente e alla scarsità di risorse che in questo caso accomuna appunto la scuola e l'università. Per citare tre dati in cui l'Italia occupa posizioni estreme rispetto alle statistiche che vengono elaborate dall'Ocse, l'età degli insegnanti nella scuola secondaria di secondo grado e questa è una conseguenza sia della scarsità di risorse che quindi del blocco delle nuove emissioni in ruolo e vede più del 50% dei docenti che hanno più di 50 anni, che sono quindi entrati a insegnare, hanno iniziato a insegnare in un contesto decisamente diverso. In altri paesi è molto più facile introdurre innovazione anche tramite questo ricambio dei docenti. I paesi che ci precedono nelle classifiche precedenti per dotazioni tecnologiche sono anche paesi in cui la spesa per istruzione è in genere aumentata. In media nell'Ocse fatta 100 la spesa per studente nel 1995, nel 2010 la spesa era 150, l'Italia è rimasta costantemente a livello iniziale in tutti questi anni, senza aumentare quindi la spesa reale per studenti. Quindi anche qui una difficoltà ovviamente a introdurre elementi di novità perché ogni elemento di novità ha dovuto farsi largo a scapito di qualcosa che c'era già a risorse costanti. Infine forse un elemento che comunque ritengo molto importante che è centrale poi nelle raccomandazioni che abbiamo formulato è la difficoltà dell'aggiornamento professionale dei docenti. Per aggiornamento professionale appunto non intendiamo semplicemente la formazione di tipo formale, si legga quella prevista dal contratto dei docenti come diritto dovere limitato a 24 ore eccetera, ma come appunto anche un'organizzazione del lavoro dei docenti che favorisce l'aggiornamento continuo, che favorisce una crescita professionale nell'arco della carriera. Per esempio l'indagine Talis mostra come in Italia più del 50% dei docenti dicono di non aver mai ricevuto nell'arco dei due anni precedenti una valutazione o anche un feedback informale sulla qualità della didattica nelle loro classi da parte di colleghi o superiori gerarchici. Quindi le nostre raccomandazioni sono state ricordate prima, tenendo conto di alcuni punti di forza comunque della politica che è stata messa in atto in Italia, che forse conviene anche ricordare, il numero di tre, il primo è stato quello di essere, di aver cambiato comunque un paradigma rispetto al passato, cioè di portare le tecnologie in classe dove possono essere integrate nella didattica tra gli strumenti quotidiani rispetto a un laboratorio separato di computer che in genere si è mostrato essere inefficace per favorire gli apprendimenti anche dell'integrazione didattica e l'uso da parte degli insegnanti. Il secondo merito è stato quello di strutturare la domanda locale, di creare comunque anche attraverso le procedure di acquisto centralizzate una riduzione degli sprechi e una certa coerenza tra le decisioni prese ai vari livelli di governo che sono numerosi nella scuola italiana. Il terzo merito è sicuramente quello di essere partito dall'energia e dalla volontà dei docenti più preparati, delle scuole più motivate a abbracciare il cambiamento e a sperimentare forme nuove per quindi capitalizzare su questa motivazione senza creare quindi inutili resistenze in una prima fase di penetrazione della tecnologia nella scuola italiana. A partire da questo appunto abbiamo riscontrato comunque alcuni limiti e ci è sembrato appunto di formulare raccomandazioni per creare il più possibile le condizioni per un apprendimento informale tra pari per favorire anche appunto quell'aggiornamento continuo delle pratiche, quella rimessa in discussione del proprio lavoro che è il fondamento proprio di una professione impegnata nella trasmissione della conoscenza oggi, favorire l'apprendimento a livello di sistema e quindi il cambiamento sistemico auspicato nella didattica. Come logica ci è sembrato che dovesse, bisognasse più chiaramente distinguere due livelli per il piano nazionale scuola digitale senza necessariamente vederli in continuità l'uno rispetto all'altro, cioè creare un livello avanzato che fosse costituito da quelle scuole pilota ad esempio selezionate attraverso bandi del tipo scuola 2.0 dove si sperimentano anche a servizio delle altre scuole forme avanzate di integrazione nella didattica si crea una sorta di zona franca di laboratorio di innovazione per l'intero sistema scolastico, ma a livello più diffuso appunto, il secondo obiettivo che è quello di favorire un'integrazione diffusa della tecnologia didattica non può venire da questa ventina, trentina di scuole selezionate attraverso bandi speciali, ma può venire solo attraverso un piano di dotazioni tecnologiche che arrivi a una diffusione capillare delle tecnologie. Ora rispetto all'uno e all'altro appunto c'è stata talvolta un'esitazione e ci sembra per, come è stato ricordato prima, per poter avere un impatto effettivamente sulla didattica, sulla qualità e per essere effettivamente integrata nella didattica quotidiana, il primo livello su cui si deve agire è l'organizzazione del lavoro dei docenti e la loro motivazione all'uso delle tecnologie. I docenti non saranno motivati a usare le tecnologie se si trovano a dover insegnare in 5 classi diverse con 5 tipi di dotazioni diverse, per cui questo è anche il senso un po' di due di queste raccomandazioni, cioè quella che è stata ricordata prima di accelerare l'integrazione della TIC nelle scuole e nelle classi, per creare un'uniformità nell'ambiente di lavoro dei docenti, nell'insieme delle classi in cui si trovano ad operare, ma anche la possibilità di questi scambi informali in cui l'incompetenza che in questi casi è spesso voluta in realtà, cioè la prima reazione del docente di fronte ad un nuovo strumento, non sono in grado di usarlo, devo una certa resistenza, può trovare il sostegno nei colleghi anche della stessa disciplina, ad esempio, che insegnano in classi parallele, si trovano di fronte alla stessa incompetenza che hanno elaborato soluzioni proprie e quindi si favorisce anche tramite questa incompetenza che viene gestita e controllata e accompagnata con azioni di formazione di diverso tipo, si creano anche le condizioni per questo apprendimento tra pari e per aumentare appunto la natura organica della scuola e dell'organizzazione del lavoro dei docenti, che ci sembra caratterizzare le organizzazioni che funzionano meglio anche all'interno della scuola italiana. Sempre per favorire la motivazione dei docenti all'uso delle tecnologie in maniera intelligente e finalizzata agli apprendimenti degli studenti, ovviamente bisogna curare l'allineamento con altre politiche, cito qui il curriculum e la valutazione, dove per valutazione si intende sia l'esame finale, per esempio dei cicli di scuola secondaria, che la valutazione eventualmente dei docenti, cioè anche dalle indicazioni per il curriculum e dalle indicazioni per la valutazione devono venire stimoli a integrare l'insegnamento con tecnologie se questo appunto viene auspicato. Infine, riendirizzare i progetti di innovazione su scuole 2.0, abbandonando quella che per noi era una fase veramente iniziale e destinata a concludersi rapidamente dell'innovazione a livello della classe, sempre perché la scuola o comunque il plesso scolastico, nel caso di scuole che occupano diversi plessi, è la struttura in cui si esercita il lavoro dei docenti ed è questa organizzazione, l'ambiente di lavoro dei docenti che deve in primo luogo cambiare a nostro avviso. Per la sostenibilità di queste politiche, che appunto è una delle parole chiave sia del convegno di oggi che una delle logiche che sottendono alle nostre raccomandazioni, è chiaro che ogni miglioramento della didattica nei risultati pedagogici deve necessariamente transitare attraverso un miglioramento della didattica che non può che essere un cambiamento delle pratiche dei docenti, per esempio abbandono dell'interrogazione di tipo tradizionale chiamando un alunno alla cattedra, ad esempio attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia di mettere al lavoro l'insieme della classe in una fase di valutazione degli apprendimenti. Ma la sostenibilità appunto anche ci sembra molto maggiore nell'ambito di una progettualità che si esprime a livello della scuola rispetto a una progettualità che si esprime a livello della classe, perché piuttosto che accompagnare gli studenti che passano e i cui risultati poi si potranno valutare effettivamente solo a molto lungo termine, i docenti restano e parlano tra di loro e ogni cambiamento che ha un impatto sui docenti in primo luogo ci sembra essere molto più sostenibile. E infine anche da un punto di vista delle evidenze che si possano produrre, sappiamo che è molto difficile misurare il valore aggiunto delle tecnologie sugli apprendimenti, almeno fin quando si continueranno a misurare gli apprendimenti in modo tradizionale, e documentare quindi i cambiamenti che una scuola raggiunge attraverso l'introduzione delle tecnologie, ci sembra che non possa prescindere da una misurazione anche di quelli che sono i cambiamenti nei processi, nella qualità dei processi organizzativi e nei processi pedagogici messi in atto dai docenti nelle classi, e quindi c'è una maggiore misurabilità e possibilità di rendicontazione se viene data maggiore attenzione appunto all'aspetto legato ai docenti nell'introduzione delle tecnologie. Io finisco qui con queste indicazioni. Molte grazie, devo dire che gli stimoli e gli spunti e le risposte ai dati sono innumerevoli, poi avremo il dibattito eccetera, ma non posso esimermi da sottolineare che questo concetto del peer learning, ho sentito al convegno della Sirem, qui abbiamo il professor Rivoltella, presidente, farà la relazione dopo, in una delle relazioni, se non ricordo male, citare per l'università una indagine, hanno fatto qualche anno fa, pare cinque anni fa, l'indagine su come apprendono gli studenti universitari, e allora l'indagine era che si apprende a lezione quando si sente il professore che insegna. L'hanno fatta, credo quest'anno, l'anno scorso, e hanno scoperto che si apprende di più, secondo gli studenti intervistati, parlando con i propri compagni, è il peer learning, io l'ho capito così. Io l'ho trovato francamente estremamente interessante e ho sentito riproporlo se l'ho capito oggi, cioè si apprende fra pari, di più, almeno all'università, non credo che nella scuola sia lo stesso. E d'altra parte si è detto che quelli che rimangono stabili nella scuola sono gli insegnanti, e allora bisognerebbe che forse anche loro facessero un peer learning, diciamo così, propongo questo peer learning degli insegnanti, come facciamo? E questo si salda alla formazione degli insegnanti, come li formiamo gli insegnanti? Forse solo attraverso dei gruppi di insegnanti che imparino insieme nella scuola si può realizzare dei punti stabili di innovazione. A me questa faccenda del peer learning ieri mi ha, al convegno SIR, perché se nell'università italiana, io cercherò di proporle ai miei colleghi dell'Università di Firenze, si impara di più se si lavora con gli studenti e fra l'altro le tecnologie consentono un'interazione molto più ampia di quella, si è sempre studiato col compagno di corso, eccetera. Qui invece stiamo con i social media, ecco queste mi sembrano cose veramente in cui la tecnologia può cambiare proprio tutti i paradigmi. Scusate di questa invasione di campo